bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono compagnia di mio amico manuele buonasera e oggi stiamo a giocare a happy wells nba challenge oh sì sì giugno adoro l'ambiente no no ho perso la prima palla ma vaffa vai madonna si è incastrato in musulman guarda la mia mano grazie mille madonna faccia schifo anche come tu hai detto eh si 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 hai visto l'uomo è un grande applauso grazie ma faccio si 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 è morta 0 4 3 2 hai visto hai visto allora questo è fatto cazzo amici staccati è incollata cioè non tengo premuta nessuno ci ha messo la colla hanno parato ci ha messo la colla ma fanculo tutta la colpa tu e ci sei andato ti a mettere la colla sicuramente tutti questi oh madonna che caneta tutti questi tiri a colombella ma si allontana sempre il caneta non me ne ero accorto davvero no 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 come si fa lui è praticamente disabile giocare anche questo video è già perso due pallonci bravo ragazzi come ci arriva rivincita vai ma fai che gare no 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 ca ancora la palla dai 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 ce la posso fare no frizzoro r s questo è bellissimo risuolto in questo periodo si è capito si ghiaccia che vedi che si blocca il tuo muro carlo sblocca devi scolpirlo in modo che possa attraversare ai ai no mia testa ma cosa ho fatto oddio oh e adesso vuoi no ma che cazzo si un povero lì che mette spazio ma che cazzo ma che cazzo ah ho capito tutto, hai ho capito tutto non ho capito lo stai facendo ho capito come si va avanti è già un passo avanti sono ritardato beh dai fai un citri bimbo e basta no fai schifo tu sei bravissimo hai bello hai bello ma era troppo facile aspetta voglio provare anch'io dai vai almeno questo voglio vincere ahahah ahahah oh so credito dai fammolo rifare devi fare in modo con questa sinistra di alzare aspetta con questo cosa significa tutti altri ma che sono ciò se non c'è questo scambio ma non non corre veloce ma questo non fai schifo se non ci fa questo scambio vai 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 dalla bicicletta c'era cosi con lo spazio e loro sui nero spingolo 2 3 guardami come si può dire il mio poco non mi si è rotto no ahahah almeno sono morto con il mio poco allora ce lo faccio ahahah oddio direttamente passare porco il cane porco il cane porco il cane che figata come sono bravo madonna che atleta cosa fare impara da me Emanuele vai piccarmi eiii eiii vai 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 che bravo guarda wow wazd wazd cazzo sto no ho saltato in uno sono un bastardo no non sono un bastardo no era era quello finale no 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 dai no 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 ho vinto con la spaccata no no attacca aspetta aspetta dai perchè si attacca perchè devi mettere le mani in per bene devi girare le mani così ok vai ma cosa so baci punti oh ma che cazzo no dai ma questa è un bug no vai cazzo vai 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 ho fatto qualcosa almeno un uomo aspetta sta attento qui vai 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 prima una mano uno spacco le gambe uno perchè si è lasciato dai ho capito come si fa dai cadastro guarda un po si è incastrato aspetta 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 ah no 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 guarda un po' se è cane che cosa che fa è caduto e così caduto è caduto Ora cadi Bravo Perché hai preso un pezzo Stacca questa cosa Accidente Perché tu cavallo che mio cavallo Perché Cameragas Tutti Tutti Oddio bravo bravo No Quanto staremo a giocare Magari ma no no Mi mette le mani davanti Da che ce la faccio a questo Magari No non lasciare Oddio 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 Speriamo si è questo un vero spot for Oh si Faccio solo penso sia facile Devi soltanto cadere E morire Devi soltanto cadere Ok più difficile Affanculo figliolo Che mo' di padre Ma devo madò Fa morire Sacrifiche figli per vincere Oddio No Affanculo figliolo Ma che è facile con questo Cioè Col padre di lì Che fa tutto Ok va piano ma sono in volontà No ma perché si conficca dentro Ma adesso delle spade Come fa per Che adesso vado Perché Vai non c'è Prendilo prendilo Aspetta Viii Tira lì la testa Tira lì la testa Tira lì la testa Prendito figlio Mi sono lanciato lasso Ma perché ti stai sentendo Aspetta 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 Bravo Bravo Non mi fa ancora mettere i cammini Vai No Sei negato No no ho capito capito Come si fa Da mettere le ruote sulle punte Ho capito Ah ha capito il mio trucco Ho capito Il bambino è andato No ho capito No ho capito Ho capito Non fa il trucco che ha fatto lui Oh si vola Si vola ragazzi Oh no No Ma porco il cane Voltro Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Non fa un culo ma l'ho battata Ma questo me lo ricordo Martirio Due attirati Ma grazie Oddio Grazie Colombella Si conficca Ma va Fa un culo Colombella E si spacca Che sta colombella Che cazzella colo No Si 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 guarda con una mano Hai Tu No 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 Va dai morire Non nemo morire dei morire Guarda Secondo livello Tutto mori Guarda Tu non muorzi questo secondo? Vado in büyük Vado in classic Come fai il chitaro Bene forse passo nei Lux A Ma che si sa unemployed che cazzo è questo Oddio Allora questo me lo ricordo è facile Sono ancora vivo? No non puoi essere ancora vivo Che cazzo fai? Però ammone Le caramelle Le caramelle Che cacchino si racconta come Ma è diretto come Se non ho fatto dire alle caramelle Sì E tu non ci riesci In questo caso Faccio il mio spazio 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 L'ho fatto Iva così e e prendere Disfruttiva Per me Inoltre Franchino l'ultimo no 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 mi fatti morire l'ultimo ma che cazzo ah l'ultimo e i primi ti fanno morire ok capito tutto con un bello con un brutto stronzo che non sei altro concomero di merda non ho fatto la trada c'è il nostro uomo che cos'è a prendere per culo due latino popopo ma non è il suo no no per un money money debt no fammi lo fammi questo del suo tempo è bravo 3 3 testo e 4 ecco costo scons dos non tutti st ammazziti 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 posto spiegato per giocato spagani spero che questo tu lo sappia fare non so come un ragazzo c'è parte ma e chi l'ha fatto scoprini se non faccio questo quadro sitenti solo con questo non mi muovi cazzo c'è spesa morire anche questo sentimento spiegato aspetta non è il tipo che non sapevo che c'era anche sopra vabbè questo è facile ci sono quelli più difficili no cazzo non è giusto che si stringono ma già pagare chi lo lascia 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 2 vittoria ma ci la fa avvegliere 2 vittoria poco curso ok oddio non vedo male questo io lo ok 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 c'è non puoi muovere titolo subito no se vado cazzo manpi oddio no ma no cioè come fai vincere questo impossibile cosa prende pericolo no sono ancora vivo sono ancora vivo sono ancora vivo non puoi muovere ti sei complicato no no non è che si scrive no qui tutte te hanno preso no l'ultimo ah va perso no dai impossibile dai impossibile non ci faremo no madonna dalle vado la testa ma questo non poco caso questo è impossibile non c'è madonna si si no vai no 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 vai tocca a te è un pelo in bocca shh shh devo fregarmi devo fare tutto il senso su vivo su vivo senza testa no 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 seppr no s seppr ora come sono morto no come ci c buco il caldo il collo un piccolo non ci accorgono di poi sei ancora qui puoi uscire coniglio saltellante ho capito come fai ma che cazzo ma sono strunzato salta addio sono strunzato spettacolo vai divo non ha fatto niente sei morto oh salta oddio bella addio vai 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 dai che sapevo oddio nooo c'è proprio alla fine fermo 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 no 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 il testa ok ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto faremo altri video insieme quindi seguiteci mettete un mi piace iscrivetevi e commentate ciao al prossimo video grazie 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 grazie